Benvenuti in puntata di On Podcast, oggi siamo insieme a Nick Cosentino, persona again. Conosco molto bene però oggi ti faccio tante domande per conoscere meglio. La prima sarebbe qual è la tua storia ma la conosco così bene che magari se vuoi ne parlo, se vuoi ne racconto io e poi vediamo di approfondire. Però ti chiedo magari per le persone che appunto non ti hanno ancora conosciuto, che è la prima volta che sentono appunto di Nick Cosentino di fare un piccolo riassunto di chi sei e magari cosa fai. Ok, quanto tempo abbiamo? Poco. Allora, grazie mille innanzitutto per insomma per avermi invitato qua. Allora, la mia storia nasce molti, 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 molti anni fa. Allora, innanzitutto io fino a dieci anni fa non avevo nulla a che fare con il mondo online. Ero semplicemente, per modo di dire semplicemente, un nuotatore professionista e ho fatto del nuoto la mia professione per anni. Sono fatto parte della nazionale italiana di nuoto assoluta per tanti anni. Ho nuotato con Federica Pellegrini, Filippo Magnini, sono tutti miei cari amici, la maggior parte magari di loro. E a un certo punto però purtroppo a ridosso delle Olimpiadi del 2008 mi sono infortunato ed ero al picco della mia carriera in quel momento, ero ancora abbastanza giovane, 21 anni più o meno, 22 adesso non ricordo esattamente. Mi sono infortunato a Lanca e praticamente il mio sogno è andato in fumo. Dopo una vita che avevo dedicato per riuscire ad arrivare a tatuarmi i famosi cerchi olimpici che purtroppo non ho mai tatuato. Ma avevo fatto tutto, mi ero qualificato per i mondiali, per gli europei, per qualsiasi tipo di rassegna internazionale. Ho fatto parte appunto della nazionale quei anni e quindi di punto in bianco mi sono ritrovato col culo per terra. Cioè mi sono ritrovato ad aver perso tutti gli sponsor che mi pagavano, la società che mi pagava per nuotare, non parliamo di cifre tipo calciatori, cioè se parliamo nell'ordine di qualche migliaio di euro al mese, anche meno. Ma era tutto poi in proporzione a quante medaglie ero in grado magari di vincere, esatto. E in morale della favola mi ritrovo completamente abbandonato perché di fatto non vincevo più, quindi ero fermo. Dovevo operarmi, mi sono operato, la ripresa ha richiesto quasi due anni. E nel frattempo le giovani leve venivano su e io invecchiavo, tra virgolette. Quindi ritrovandomi col culo per terra ho iniziato a domandarmi, ok, come tiro a campare adesso? Nel senso ho mio fratello che è più piccolo, che ha tre anni e mezzo in meno di me e vivevamo già giù a Roma, proprio per notare, eravamo venuti giù a Roma sotto contratto e vi dicendo. E ci siamo ritrovati senza niente e ho iniziato a bazzicare online e cercare di capire cosa avrei potuto fare per pagare le bollette. Siamo intorno al 2011, siamo arrivati al 2011, 2010-2011. Ancora non guadagno più nulla, sostanzialmente perché la ripresa è stata tosta, nel senso che quando per anni sei in grado magari di guadagnare certe cifre, ma in più non sei neanche un genio della finanza, quindi mi ero sputtanato tutto quanto. Anche se, ripeto, il massimo che io sono arrivato a guadagnare con i premi era circa 2000 euro al mese, ma è durata poco, cioè veramente un anno e mezzo, due, il resto la media è sempre stata un rimborso spese di 800-1000 euro, oscillava fino a quando poi ho perso tutto e poi piano piano sono ritornato a vincere determinate gare, ma non siamo mai più andati sopra i 500 euro al mese di rimborso spese, quindi dovevamo pagare gli affitto di casa, eravamo in due, non volevamo pesare sui nostri genitori, quindi ho iniziato a cercare online nel 2011, verso il 2011 e ho iniziato a vedere questi ragazzini che in Ferrari e in Lamborghini facevano un sacco di soldi in America. Non capivo tantissimo l'inglese, però col fatto che viaggiavo tanto per le gare, un minimo di parole di base ce l'avevo e quindi ho iniziato a capire che forse sì, sarei riuscito a captare forse qualcosa, sarei riuscito a captare qualcosa per fare valore un pochino di soldi e il mio unico obiettivo era quello di riuscire a prendere i soldi sufficienti per pagare le bollette, fine, e non pesare su mamma e papà. Sì, non era quello di diventare ricco, diciamo. No, no, assolutamente, non credevo, anzi, onestamente quando vedevo online quelle robe, ripeto, parliamo del 2011 e inizio quasi 2012, in Italia non c'era niente, ok? Quindi oggi siamo abituati a vedere chiunque sbocciare e andare su Lamborghini, Ferrari, Bush Khalifa, di qua, di là, all'epoca non c'era niente, ok? Non c'era ni guru che ci sono oggi, ok? Poi parleremo anche di questo che mi diverte, che la maggior parte delle colpe sono mie, ma sostanzialmente inizio a capire che queste persone mandavano delle campagne pubblicitarie sfruttando Facebook su determinate pagine, determinate offerte e guadagniamo delle commissioni, quello che si chiama affiliate marketing. E quindi io sostanzialmente inizio a comprare in piccolo questi corsetti che costavano veramente poco e avevano questo programma di affiliazione. Io con pochi euro al giorno, tipo 1-2 euro al giorno di pubblicità all'epoca su Facebook, ripeto, si poteva fare di tutto, era veramente Wild Wild West, potevi promuovere qualsiasi cosa, cioè era il tempo in cui potevi dire ecco come perdere 10 chili in tre giorni e che non ti bannavano, che avevi zero problemi, potevano un sacco di cavolate, un sacco di cagate, vabbè. All'inizio delle nuove tecnologie è sempre così, no? Quindi Facebook era all'inizio in Italia, è arrivata nel 2007-2008, quindi mi ricordo che sono iscritto nel 2008 a Facebook per cazzeggio, per il nuoto, perché mi ci avevano fatto iscrivere agli Hawaii, che ero andato per fare un collegiale con la nazionale e sta roba aveva detto iscriviti a Facebook, noi lo usiamo per i collegi, sono tornati in Italia, dico ma nessuno sapeva che cazzo fosse Facebook, quindi c'è per dire, no? E quindi 2011 inizio a fare un po' di campagna e inizio a guadagnare i primi soldini, quindi inizio a vedere che effettivamente spendevo 2, guadagniamo 20, quindi morale della favola, ancora per un annetto inizio a pagarmi le mie bollettine, inizio a pagarmi le mie cose e dopo un anno inizio a fare i primi video, quindi sono stato uno dei primi a fare i video selfie, ok? Quindi andavo in giro per Roma, vivevo ancora qua, andavo in giro per Roma, la gente mi vedeva come se fosse un appestato perché cercavo di andare in giro in mezzo alla gente e facevo i video riprendendomi, non era una cosa normale, non c'era ancora il selfie stick per dire. Faccio i video, inizio a fare i video e li inizio a pubblicare, la gente mi inizia a prendere per il culo ovviamente, tutti i miei compagni di nuoto iniziano a prendere per il culo, vabbè, per fartela breve, dopo ancora un anno io ho continuato e sostanzialmente in questi video parlavo di quello che stavo studiando nei libri di crescita personale, di libertà finanziare, vi ho dicendo che non ero ancora libero, cioè finanziariamente, ma manco per il cazzo. Quindi semplicemente io ho letto questo libro, mi sembra interessante, vedete voi che cosa potete trarre da questo insegnamento, se vi fa piacere continuate a seguirmi. Quindi io facevo questo cenere di video un giorno, era il 2014, non mi sono passati altri anni e mezzo, un po' di persone mi iniziarono a scrivere sotto i commenti dei video, cazzo sono veramente interessanti questi video, dovresti fare un corso. E io dico, come cazzo si fa un corso? Ripeto, in Italia c'era poco e nulla. E allora dico, cazzo devo creare un corso. Effettivamente poi ho fatto un po' di ragionamenti, ho detto, ma io in questo anno ho guadagnato circa 4.000 dollari, neanche più o meno, 4.000-5.000 dollari, e il corso non è mio, è in affiliazione. E prendo il 50%, quindi se questo corso fosse stato mio, avrei guadagnato 8.000 dollari. E ho detto, minchia, 8.000 dollari, cioè, dal computer. E ho detto, cazzo devo capire come creare i corsi. Quindi compro un libro su Amazon, di Jeff Walker, pensa te, Launch. Leggo semplicemente questo libro da 9,90 euro, ripeto, non avevo ancora i soldi. Tutti quei soldi guadagnavo andavano, a parte che tanti mi dovevano arrivare, perché sai gli americani quando devono pagarti le commissioni, vabbè. Però andavo proprio per mantenerci. Compro questo libro, seguo esattamente questo libro da 9,90 euro, 9,90 euro, preso su Amazon, che era palesemente una sales letter gigantesca che mi voleva vendere il suo corso, ma io non avevo i soldi per quel corso, ma io da quel libro ho capito tutto. Cioè io, quel libro, ho detto, ok, quindi devo fare così, 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 così. Poi sono entrato nei loro funnel gratuitamente e ho guardato esattamente come lui o come le persone che c'erano già online, quindi c'era Jeff Walker, Frank Kern, Dan Kennedy, Ryan Dice, tutte queste persone. Ho iniziato ad entrare nei funnel di tutte queste persone per studiare esattamente come loro vendevano le cose. Poi il prodotto vero non lo compravo perché non avevo i soldi sufficienti, ma vedere e studiare gratuitamente come loro vendevano queste cose, bah, mi ha aperto il mondo. Ho detto, devo cercare di replicare esattamente, però vendendo quello che devo vendere. E quindi, Vorale della Favola, tempo due mesi, creavo il mio primo infoprodotto, si chiamava Accademia del Network Marketing, quindi ero molto focalizzato perché in tutto quel tempo anche avevo iniziato a fare network marketing, quindi cercavo di vendere ovviamente le cose, e i miei distributori all'epoca, oggi non ho più un cazzo a che fare con Network Marketing, voglio sostolinearlo ormai da molti anni, però sostanzialmente acquisivo io distributori usando l'online. E ricordo che l'azienda di network per cui facevo network mi aveva anche fatto mezzo alla guerra. Mi avevo messo perché volevano, perché io dicevo, ragazzi, ma cosa cazzo andate a fare agli eventi, a gasarvi che poi uscite il lunedì, siete dei mammalucchi che non sanno fare un cazzo. Cioè, voi dovete capire come si fa marketing, dovete capire come sfruttare i social per acquisire i clienti, per acquisire i distributori. E quindi io dicevo queste cose che andavano in contrasto con l'azienda tradizionale, quindi mi odiavano, però i miei risultatini li iniziavo a fare, quindi la gente iniziava a chiedere, ma come hai fatto, come hai fatto, come hai fatto, e a un certo punto ho detto, cazzo, creiamoci un corso. E quindi ci ho creato il corso e il 15 gennaio del 2015 ho lanciato il mio primo infoprodotto con Gabbo, con mio fratello, e una settimana dopo abbiamo fatto i primi 12.000 euro, abbiamo pagato le tasse che dovevamo pagare, fatto tutto quello che dovevamo fare, prendiamo solo 500 euro noi perché eravamo abituati a vivere con 500 euro e il restante l'abbiamo reinvestito tutto in corsi di formazione per andare a comprare tutti i corsi da cui avevo studiato nei funnel gratuiti, ma non avevo mai comprato niente. Quindi ho preso quei soldi, li abbiamo reinvestiti tutti in formazione, morale della favola, 18 mesi dopo abbiamo fatto il primo milione di euro e oggi a distanza di 9 anni e mezzo mi hanno generato più di 20 milioni. E' questo che tu hai appena detto, faceva parte delle domande che ti volevo fare dopo, ovvero come fai, perché questo è un tuo secondo me talento proprio, come fai a dire investo e utilizzo i soldi in una maniera così distaccata a livello emotivo, perché anche per quello che tu mi hai appena descritto, io se penso a come io di solito ho investito in formazione, in varie robe, non sono stato uno che si frenava o tirchio, però comunque dosava in maniera forse anche troppo attenta a volte questi investimenti che facevo in formazione o in altre cose che mi potevano essere utili nel pistas. Io invece parlando anche delle volte con te vedevo che serve quella nuova persona che faccia questa cosa, schiocco le dita, cioè va bene, cioè non stai lì a riflettere troppo se quell'investimento può andar bene, può andar male. E secondo me se hai delle competenze, ma è la prova, poi alla fine funziona, perché ci azzecchi più delle volte in cui ti sbagli, perché ti capiterà anche a te ovviamente di fare l'investimento nel business sbagliato, però se la maggior parte sono corretti, quindi ti chiedo è una cosa che hai sempre avuto oppure l'hai imparata magari col tempo? Qual è la bellissima questa domanda? No, allora in realtà l'ho imparata e ho forzato questa nuova realtà all'interno della mia testa molti anni fa. nel senso, la prima cosa che io ho compreso, ho capito, nel, ripeto, siamo nel 2011-2012, me ne leggevo tutti i libri di Robert Kiyosaki, Anthony Robbins, il grande Alfio che poi è diventato il mio barissimo amico, e quello che ho capito è che queste persone vedevano i soldi non come li vedevo io, cioè io vedevo i soldi come la roba di cui avevo tremendamente bisogno, che non dovevano essere assolutamente sprecati, che cazzo farli è una roba difficilissima, che o sei fortunato, o lo direi di ti, oppure semplicemente aspettavo un sacco di altri per averli, e mentre invece guardavo che tutte queste persone, in tutti questi libri che io studiavo, è un libro bellissimo che io consiglio sempre, è l'uomo più ricco di Babilonia, uno dei libri più belli che, che ancora oggi rileggo dopo tanti anni, anche se sono una versione diversa, quindi ci vedo delle cose che non ci vedevo 12 anni fa, 12-13 anni fa, e ho capito piano piano che queste persone, cioè i veri ricchi, ok, chiaro parliamo di billionaires, oppure di millionaires, cioè non c'entra niente, ok, per me la ricchezza è, dal momento in cui tu sei in grado di fare quello che ti pare, quando ti pare, senza preoccuparti del denaro, tu sei già ricco, il che vuol dire che puoi essere ricco con 10 milioni d'euro al mese, puoi essere anche con 100 milioni d'euro al mese, ma come puoi essere anche un povero guadagnando mezzo milione al mese, c'ho conosciuto gente povera, che guadagna 500 mila euro al mese, è povera figa, non ha tempo, non guarda neanche i figli, neanche in faccia, e sono super indebitati, e quindi sono dei ricchissimi, ma che poi non hanno veramente i miei, cioè sono sterili, e per me, cioè quando io torno a casa e vedo il mio figlio, è la cosa più bella del mondo, però ritornando ai soldi, ho capito che queste persone, quindi quando io ancora non ero ricco, ho capito che queste persone, vedevano i soldi come un mezzo, quindi i soldi sono un mezzo, ma per vedere i soldi come un mezzo, devi renderti conto che i soldi sono presenti in abbondanza, mentre invece cresciamo costantemente, soprattutto in Italia, in cui mio figlio non crescerà, non crema perché noi viviamo fuori, però comunque le radici italiane ci sono, sono anche fiero di avere alcune, altre non troppe, perché vanno completamente contro i miei principi, e la fatica che ho dovuto fare per sganciarmi da quei principi negli altri, però ci ringrazio sempre che i soldi sono scarsi, quindi stai attento, figa non fidarti di nessuno, cazzo, metti la prezzolina da parte, che non sono cose sbagliate, però cresce poi questa mentalità di scarsità, quando invece retta i soldi, sono presenti in abbondanza, è l'unico modo che hai per fare più soldi, è capire come i soldi circolano nel mondo, i soldi circolano nel mondo quando? Quando tu tiri fuori il portafoglio e spendi, quindi stai contribuendo alla circolazione del denaro, se tu ti risolvi sotto al materasso, cosa succede? Che l'economia si frizza, quindi non circola il denaro, quindi tu non stai contribuendo a mettere del denaro all'interno del mercato, per fare in modo che tutta la catena produttiva, di dicendo vada avanti, quindi tu non stai facendo il gioco del denaro, stai facendo l'opposto di quello che il denaro vuole, il denaro vuole che tu lo faccia fluire all'interno del mercato, se tu non sei in grado di fare questo, oppure ritieni questa cosa qua, il denaro in qualche modo, il denaro ti intera, e quindi quando io ho capito tutte queste cose, ho iniziato a dire, ok, il denaro è abbondanza, lo posso fare, non devo necessariamente essere nato in una famiglia rica, non devo per forza vincere la lotteria, e posso guadagnare in maniera alternativa, che non è lavorare 19 ore al giorno, o fare quattro lavori differenti sotto padroni, in via di 100, che non c'era nulla di mare, ma non era quello che volevo fare, e avevo capito sin da subito, che sarei diventato ricco lì, finanziariamente facendo quella roba là, e quindi ho iniziato a vedere i soldi, in maniera più distaccata, sin da quando non li avevo, quindi io magari facevo i primi soldi, però mi rendevo conto sin da subito, mi rendevo conto di quanto mi serviva per vivere, e tutto il resto per me era un non dovuto, cioè non mi era dovuto, avevo iniziato a generarlo, ma non mi era dovuto, non era mio, non lo vedevo come mio, e tuttora, tante volte, quando c'è, quello che mi ha permesso ad esempio di investire, tanto in formazione ho investito ad oggi, poco più di un milione di euro, e mi ha riscontrati, cioè se qualcuno non si guida, c'è la mia. No, ho letto, ho letto proprio un messaggio che tu avevi scritto, se non sbaglio nel mastermind, dove dicevi, in questo mastermind, in questa cosa ho speso X centinaia di migliaia, pure nel mio nuovo libro, li andrò da paura, ho fatto le cose che in generale gli italiani non fanno mai, che è menzionare, da chi ti sei formato, ho messo tutti, e ho messo anche quanto ho pagato, quanto ho speso e quanti anni ci sono rimasto, e quindi se uno si fa i calcoli è più di un milione di euro. Però, cos'è che mi ha permesso di investire così tanto senza paura, oppure anche, cioè che mi ha anche permesso di crescere velocemente, di scalare velocemente, perché a fine scala, quando hai un sistema di marketing che funziona, hai le palle di metterci budget per crescere velocemente, perché qui sono qualcosa, c'è il tempo, io semplicemente i soldi che facevo, non li vedevo come i miei, non li vedevo come qualcosa che mi aspettava, li vedevo come uno strumento, che si stava inserendo perfettamente nella macchina di business, nella macchina della mia vita che stavo costruendo, e quindi quando abbiamo fatto i primi 12 mila euro, li ho visti come a cazzo, 12 mila euro, ci posso fare questo, vado in vacanza, faccio questo, no, ho detto, quanto mi serve per vivere, cosa siamo abituati a vivere, con 500 euro al mese, è ben figa, prendiamo 500 euro, paghiamo le bollettie che dobbiamo pagare le cose, tutto il resto, quindi più di 10 mila euro, noi abbiamo investito in formazione, il mese successivo, e in formazione, e in Facebook Ads, e in Google Ads, e il mese dopo abbiamo fatto 25 mila euro, il mese dopo abbiamo fatto 30 mila euro, il mese dopo 60, il mese dopo 100, e poi i primi 6 mesi 100 mila, poi piano piano abbiamo, abbiamo fatto sempre lo stesso gioco, cioè fino a quando noi non siamo arrivati a un milione, pagavamo quello che doveva pagare a Stato, e mi dicendo, e poi il resto era tutto investito, cioè io personale, non prendiamo un cazzo, in realtà la mia vita non è che fosse cambiata tantissimo, in quel anno là, però ovviamente, io come persona ero totalmente cambiato, ero più libero, e sapevo che però, stavo creando qualcosa, che già valeva centinaia di milioni di euro, e poi milioni di euro, e quindi sono sempre cresciuto con questa cosa, che il denaro non mi appartiene, cioè il denaro è mio e tuo, l'importante è che lo facciamo circolare, se io te lo facciamo circolare, noi non saremmo mai senza il denaro, e quindi ho convinto la mia testa nel tempo, dicendo, se io spendo questa cosa, Tato viene entrata un'altra parte, perché sto facendo il gioco del denaro, che non vuol dire però sperperare, perché sono anche caduto in quella trappola, e magari dopo i primi anni, inizia a fare tutto, orologi da 30.000 euro, poi quello da 40.000 euro, c'è stato un mese che magari ho preso quattro orologi, che dice cazzo, hai speso 100.000 euro, sì, poi magari nel tempo cresce, ok, però poi ci ho guadagnato, quando gli arrivi tutti negli anni, quindi meno male, però insomma, c'è una linea sottile, che separa il d'essere distaccato dal denaro, dal rispettarlo, ma essermi distaccato, io lo rispetto, perché senza soldi non puoi fare un cazzo, però dall'altra parte, non ne sono attaccato emotivamente, quindi questo mi permette di investire, magari anche cifre considerevoli, senza paura di perdere, anche se dovessi perderli, dico, senti ho 36 anni, sono in grado di rifarli da zero, pazienza, ed è la stessa identica tecnicamente, che ho utilizzato, quando negli anni mi hanno inculato dati soldi, mi sono fidato di professionisti sbagliati, che mi hanno inculato centinaia di pigliaia di euro, e un giorno ci scriverò un libro, probabilmente, vedremo, ma, e tanto l'Italia non ti aiuta, quando ti vuoi, non ti aiuta per me, però è un altro problema, cioè, non solo con un otto, va pure ammazzato, ma al di là di quello, ho dovuto per forza fare così, per alleviare anche determinate penne, determinate inculate che ho preso, perché sai, lui si vende una mattina e dice, cazzo, mi hanno inculato 290 mila euro, e beh, figa, se inizia a pensare, minchia, 290 mila euro, potevo comprarci la casa, potevo fare questo, potevo fare quello, non vivi più, se tu mi dici, senti, mi hanno inculato, sì, ho imparato qualcosa, anche più di nulla, benissimo, è il più costoso corso di formazione che ho comprato, è vero, capito, cioè, il fatto di fare questi reframe mentali, sminuendo le cose, mi permette di avere magari anche una tolleranza a rischio, che è nettamente al di sopra della media, è tolleranza a rischio anche negli investimenti, lo noto, cioè, io sono uno ad esempio super pro cripto, cioè, nel senso, io ho tanti, eh, ma quello ti ha aiutato, perché quando per esempio non si parlava in Italia di cripto, tu, e quindi sai, quando hai parecchi soldi in quel mercato, super volatile, super rischiose, super nuovo, o hai una tolleranza a rischio elevatissima, o, un'altra cosa che noto, per esempio, quando guardo Miccosentino, noto il fatto appunto, che abbiamo trattato prima, che è libero, ma non solo a livello economico, per esempio, pensando anche ai formatori in generale, che ci sono, una grande differenza di Mic, è che è libero su tutto, cioè, libero su come parla, su come si veste, e a livello economico, su cosa vuole fare anche a livello di business, per esempio, l'ho noto tanto nelle azioni che vai a fare, e anche questo secondo me deriva tanto da quello che hai appena detto, cioè dal fatto che hai preso magari determinate fregature, determinate cose, che poi però ti hanno sbloccato tanto, e ti chiedo, la gestione che hai avuto all'inizio, anche dei giudizi delle altre persone, secondo te, ha inciso molto in questa cosa, perché per me, per esempio, è stato un passo molto difficile, no? Avere il primo commento negativo, io ancora ve lo ricordo, no? Perché mi ha colpito molto, non pensavo che ci potesse essere, c'è, certe persone con tanto odio, magari su, magari un video, anche banale, come quello che tu dicevi prima, che hai fatto dal tuo telefono, in maniera molto semplice, no? Quindi voglio chiederti appunto come hai affrontato questa cosa, e se è questo il merito, diciamo, che poi ti ha portato a riuscire a essere libero in tutto, dal vestire, al comunicare, a parlare in una certa maniera, anche perché molte volte, questa è un'altra cosa che io, per esempio, quando guardavo dei tuoi video, vedevo Mick che spiegava delle cose sulla vendita, diceva, sta cercando di vendere, mentre ti spiega quella cosa sulla vendita, cioè cerca di spiegartelo nella maniera più adatta, per farti imparare quella cosa, e poi per magari venderti qualcosa, e quindi ero partito dall'idea di Mick come un po' un personaggio, no? Che magari cerca appunto di venderti poi qualcosa, e poi col tempo conoscendo sempre più Mick, ho imparato che Mick è così ovunque, cioè così nel video, è così in qualunque contesto possibile, no? E anche questo mi stupisce, perché tante persone, anche online, specialmente adesso, sono personaggi, e poi nella vita reale, sono una persona totalmente diversa, e questa cosa io, per esempio, all'inizio pensavo anche nella vendita, no? È meglio, perché quando devo vendere, invece tu sei così sempre, cioè proprio non ti si cambia, non c'è modo, cioè non conosco l'altro Mick, diciamo così, e allora questa è molto bella, questo punto che mi è toccato, perché sì, allora penso sicuramente che il grande allenamento mentale che ho dovuto fare molti anni fa, contro tutto e tutti, oggi mi serva tantissimo, nel senso, ripeto, quando io sono partito, allora partire oggi, cioè io quando vedo ragazzi che magari sono partiti nel 2019, nel 2018, con tutto il rispetto, nel senso, e vi voglio bene ragazzi, non vi preoccupate, vi faccio le carezzine se venite dalla ragazza mia, e però il discorso è completamente diverso, cioè se una persona deve partire oggi, la gente è già abituata a vedere persone online, a vedere persone che hanno fatto video, a vedere guru, o non guru, anti-guru, eccetera, eccetera, ma tanti anni fa, non era normale vedere le persone fare i video online, no? Cioè oggi, se tu vedi Bruno Partiriz, che è uno dei, a me piace tantissimo, vuoi fare anche uno personaggio, se lo vedi che promuove un corso online, è normalissimo, cioè se vedi l'Avacciuolo che fa un corso online, fa dei video, è normalissimo, ma quando sono partito io, vedi le persone famose fare dei video, non vedevi nessuno fare, era strano, era un, ma questo ti parla da solo, in più, io venivo da un ambiente, che è quello del nuoto, insomma, che è molto chiuso, cioè è sostanzialmente una vera e propria, palla di cristallo, una palla di vetro, dove siamo tutti lì, facciamo la stessa identica cosa, ma fuori dalla vasca, gli interessi più comuni, che si possono avere, c'è qualcuno che magari studia, ma chi non studia, gli interessi più comuni, è magari giocare alla playstation, o cazzeggiare, o parlare un po' di figa, e via di qua, e di là, e quindi io di punto in bianco, minchia mi sono distaccato da quel mondo, perché ho iniziato a essere focalizzato, sui libri, quindi io andavamo nelle trasferte, magari a nuotare, e per fare delle gare, io ero sempre quello che faceva uno, nella banda dei cazzoni, tra virgolette, in modo allegorico, insomma, dietro al pullman, che faceva il figo, che parlava, che intratteneva di qua e di là, da un giorno all'altro, io ho capito che volevo sistemare la mia situazione, perché ero senza una lira, e nessuno più mi stava pagando, ero quello che stava davanti, sfigatissimo, col libro in mano, di, cazzo ne so, di Chiyosaki, oppure di Anthony Robbins, e leggevo, e i miei compagni, che io non facevo più parte della cricchetta, di quelli che cazzeggiavano, ogni tanto mi lanciavano le battutine, venivano, oh adesso è diventato intellettuale, ah adesso impara a fare i soldi, ma dove cazzo vuoi andare, mo si è montato la testa, noi non andiamo più bene per lui, quando io in realtà stavo solamente nel mio cazzo di angoletto, a leggere i libri, a studiare, anche mentre mi aspettavo di fare la gara, o che è uguale, non perdevo tempo sugli spalti, non cazzeggiavo, stavo lì e leggevo, e prendevo insulti dalla mattina alla sera, ma la cosa più brutta non sono stati gli insulti che io sentivo, ma sono stati quelli che mi facevano dietro le spalle, perché poi ovviamente ti arrivano le voci, in quel mondo è tutto, è un mondo molto piccolo, e queste voci arrivavano da chiunque, anche da persone a cui io volevo veramente tanto bene, che mi sarei messo sotto una macchina per salvarli, e senti che parlano male, che dicono, ah ma questo che cazzo fa, ma questo sta inculando la gente, ma questo vende aria fritta, vende fuffa, ripeto, 2011-2012, ancora non vendevo, facevo solo video, non stavo vendendo un cazzo, oggi li vedi questi qua, magari fanno video e vendono corsi sul nuoto, che io lo facciamo nel 2012, quella roba, ma al di là di quello, quindi là ci sono stato parecchio male, e quindi lì ho detto, ok, sentite, io non ho alternativa, nel senso, me ne fotto di quello che voi pensate, e ho iniziato a far diventare le mie spalle, ancora più grandi del normale, perché ho detto, tanto queste persone, mi insulteranno comunque, parleranno comunque, e invidia, non capiscono, va bene, oggi ho perdonato tutti, non mettere, anzi li vedo, sinceramente alcune cose, mi fanno molta tenerezza, e nutro molta compassione, per tante di queste persone, che sono esattamente nello stesso posto, in cui io le ho lasciate, più di dieci anni fa, continuando a dire ancora le stesse cose, su di me, che ormai voglio dire, se dopo dieci anni, cazzo, sono anche conduttore in tv, cazzo, ho fatto tutto quello che si poteva fare, ok, ancora dici la stessa roba, figlio mio, ti voglio un sacco di bene, ti faccio la carezzina, che dicevo prima, buonanotte sogni d'oro, ti voglio un sacco di bene, cioè non puoi fare un cazzo, cioè se uno è baccato, è baccato, non ci puoi fare niente, quindi il discorso è, come vedi, la gente parlava male di me, cioè i miei amici, parlavano dietro le mie spalle, dieci anni fa, oggi non sono più miei amici, parlano ancora dietro le spalle, come dieci anni fa, ma oggi ho, insomma, oggi trovare qualcosa, per parlare male di me, ce ne vuole veramente tanto, ce ne vuole, cioè devi proprio essere un coglione, cioè devi proprio essere un coglione, ok, so se poi metterai i bip, ma devi proprio essere un coglione, perché voglio dire, perché ho altri amici, che invece sono rimasti i miei amici del cuore, ogni volta che torno magari in Italia, li voglio vedere, che dicono, io non capisco quello che tu fai ancora, perché non ho il tempo di mettermi ci, però, chapeau cazzo, perché oggi sono tutti online, tu lo dicevi dieci anni fa, quindi, chapeau, ti voglio bene un sacco, e io uguale, capito? Quindi nel momento in cui tu sai, che la gente tanto parlerà male, comunque non è questione di quanto ce l'hai fatto a meno, più tu andrai avanti, più avrai risultati, più la gente ti parlerà, e non ci sarà mai l'unanimità, nel dire, cazzo sì sei bravissimo, non c'è un livello in cui si arriva a ciò, Elon Musk è amato e odiato, Gesù, perché chi è credente o meno, è amato e odiato, Buddha è amato e odiato, madre Teresa di Calcutta è amato e odiato, e allora, ma se Dio e Gesù sono sia amati che odiati, ma io chi cazzo sono per essere solamente odiato, perdonami, e quindi quando io ho capito questo ho detto, senti sai che c'è, io voglio essere libero di fare quello che voglio, quello che mi piace, perché se ho iniziato a fare questo mestiere online, molti anni fa, quello poi io ho chiamato l'info imprenditore, oggi imprenditore a tutti gli effetti, ma prima ero solo imprenditore nel mondo delle informazioni, ho detto, l'ho fatto perché voglio essere libero, e non voglio avere capi o padroni, che vuol dire, che anche i miei clienti non sono i miei padroni, che anche quelli a cui faccio magari consulenza, che non sono i miei padroni, cioè non lascio a nessuno decidere come io mi devo comportare, cosa io devo fare, io so di avere delle responsabilità, so di avere dei valori, e so di avere delle, di dover rispettare determinate aspettative dalle persone, ma non agisco poi pensando sempre, ah ma cosa diranno le persone di me, ah ma cosa faranno le persone di me, ah ma cosa diranno se io faccio questa roba, se io mi investo in questo modo, che a un certo punto ho detto, senti, io sono così, e voglio essere così, e se uno va a guardare i miei contenuti, da quando io sono partito, ad oggi, non puoi trovare discrepanze, perché sono sempre stato uguale, non ho mai finto un personaggio, ho avuto il momento dove facevo il cazzone, è stato, non dico forse il primo, non lo so, a fare i video sulla Ferrari, a fare i fan con la Ferrari, nel 2015, cioè capito, e che funzionavano, oggi è super inflazionata come cosa, quindi ho avuto quei periodi, ho avuto i periodi di ribellione, ho avuto i periodi, come oggi è un periodo magari diverso, è un periodo un po' più maturo, un po' più adulto, e dove magari non ho veramente bisogno di dimostrare un cazzo a nessuno, e cerco ovviamente di far parlare solamente i risultati, quindi questo sono io, e il motivo per il quale rimane così integra è proprio perché non ho mai dovuto interpretare un personaggio, perché all'inizio io stesso ho detto, cazzo forse devo interpretare un personaggio, sì ma poi quanto dura? Cioè a un certo punto non ce la fai capito a fingere, non puoi essere un attore tutta la vita, perché anche gli attori stessi cambiano ruoli dopo un po', ma se fossero sempre a fare Harry Potter, dopo un po' ti spari in testa, o diventi Harry Potter, oppure in testa perché ti rompi i coglioni, oppure rimani te stesso, sei te stesso, e se cambi è perché tu stai cambiando, capito? Chiaro, guarda, avrei così tante domande a farti lato business, però ce n'è una che ti ho fatto anche a livello personale, e quindi ti chiedo di nuovo, qual è un buon consiglio che, non dico il migliore perché magari cambia col tempo poi il tuo parere al riguardo, però uno dei migliori consigli che darai a tuo figlio? Voglio sapere questa cosa, che secondo me può essere molto interessante, anche d'aiuto a chi deve entrare magari in questo mondo, che non parlo solo di business online, parlo magari anche di discorsi di mindset che hai fatto, puoi dirne anche più di uno, puoi dirne anche più, anzi meglio. Sì, sì, tra l'altro ci ho pure fatto un video per mio figlio, quando dopo Pofo che era nato, esatto, su YouTube, poi quando sarà grande se lo guarderà o ce lo guarderemo insieme, insomma. Allora, il primo consiglio in assoluto, che vorrei dargli, o che cerco anche adesso, lo faccio anche adesso, ora iniziate a camminare, e quindi adesso capirai, inizia ad andare in giro, prende cose, fa di qua, di là, e lui può avere qualsiasi cosa vuole nella vita, nel senso, questa è una cosa che, dal mio punto di vista, ogni bambino dovrebbe poi ricordarsi quando cresce, noi siamo bravi a far sognare i bambini, quando sono piccoli, ma poi se ci pensi siamo, siamo veramente stronzi, fotonici nel momento in cui cresciamo, e ci iniziano a chiudere all'interno di una campana, dove ci dicono, no, questo non lo puoi fare, no, se fai questo, questo non è possibile, no, ma tu fino a qua puoi arrivare oltre, meglio di no, non illuderti, non puoi andare oltre, perché? Quando siamo piccolini, loro possono fare gli astronauti, loro possono viaggiare in giro per il mondo, loro possono fare i migliori, possono diventare i migliori medici, i migliori dottori al mondo, oppure i pompieri, oppure, poi quando cresci però, no, ma tu non devi fare questo, no, ma tu dovresti fare questo, ma perché? Quindi una cosa che io cerco sempre di fargli fare, anche adesso, ripeto che capisce, non capisce, non lo so in realtà se capisce, penso che qualcosa capisca, a un anno e tre mesi, però mi rendo conto che può non capire tanto le parole, ma se io gli faccio vedere delle cose, cazzo, lui le rifà, è incredibile, devo dire, fai così, lui guarda, e poi fa così, se io butto giù questa pianta, lui mi guarda e fa, butta giù la pianta, e quindi quello è il suo modo ovviamente di imparare in questo momento, quindi per, attraverso la vista, attraverso l'ambiente che lo circonda, e quindi quello che voglio, di cui voglio convincerlo sempre, voglio che rimanga con lui sempre, è che lui può veramente diventare qualsiasi cosa vuole, cioè nel senso, devi essere in grado di capire che non hai limiti, gli unici limiti che ti puoi mettere, e che puoi avere, sono quelli che ti metti tu, quelli sono gli unici limiti, quelli che ti metti tu, e quelli che ti mettono gli altri, se tu rendi i limiti che ti mettono gli altri, i tuoi limiti, sei fottuto, il problema è che viviamo in una società, dove devi rendere conto alle persone, e oggi ancora di più, di quando ero piccolo io, perché oggi ci sono i social, qui oggi tu ti esponi, e c'è quello là che dice, ah ma tu che cazzo, ma dove vuoi andare, e quindi tu devi essere bravo, ad avere questo scudo, ad essere un muro tra virgolette, a capire cosa succede nel mondo, ma isolarti all'interno della tua testa, con la determinazione di chi dice, io voglio fare questo, e questo riuscirò ad ottenere, punto, questo è il primo insegnamento, che ti voglio dare sicuramente, e forse il più importante, perché poi da questo, a effetto domino, a cascata, ce ne sono tanti altri, però il fatto di non mettersi limiti, il fatto di non dover per forza, fare le cose, perché così rende felice gli altri, cioè tu puoi rendere felice gli altri, ma il vero segreto, è fare qualcosa che rende felice te, che contemporaneamente renda felice agli altri, se non è così, stai semplicemente sacrificando te stesso, per gli altri, a un certo punto ti renderai conto, che gli altri non sono disposti, a fare la stessa cosa per te, e quindi, non è che non ne vale la pena, nel senso, anche là, quando tu fai, questo è un altro insegnamento, se tu vuoi fare, e che lo ho appreso io nel tempo, se tu vuoi fare del bene alle persone, lo devi fare, punto, a prescindere, non aspettarti mai qualcosa in cambio, perché tanto quel qualcosa in cambio, nel 99,9% dei casi, non arriva, e se arriva, arriva sotto mezzi diversi, e tu non te ne rendi conto, quindi per te non è comunque arrivato, perché nella nostra testa, se noi facciamo qualcosa di buono, per noi vale questo, quindi allora lui dovrà fare questo, come quando fai i regali, io faccio questo regalo, l'ho pagato mille euro, allora lei mi deve regalare, una cosa da mille euro, se no vuol dire che non mi ama, che cazzo vuol dire, cioè se tu ci pensi, quindi fai le cose, senza aspettarti che in cambio, le persone le facciano, e mentre lo fai, godi cazzo di quello che stai facendo, se veramente ti rende felice, e quindi questa è un'altra cosa, cioè non basarsi mai sulle aspettative, le aspettative ti inculano, le aspettative ti fotteranno sempre, quindi se ti fai fotterre dalle aspettative, in tutto, nel lavoro, nelle relazioni, cioè se tu ci pensi, la maggior parte dei conflitti, anche familiari, si creano dalle aspettative che uno ha, e io ho fatto questo, lui dovrebbe fare questo, io ho fatto tutte le seghe mentali, che abbiamo dentro la testa, questo è un altro insegnamento, nel senso, che lui non deve fare le cose, perché suo padre si aspetta, che lui sia Pinco Pallino, cioè ovvio, io cercherò di fare di tutto, farò tutto il possibile, affinché lui possa avere, tutte le basi, per poter diventare qualsiasi cosa, deciderà di diventare nel tempo, ma non deve fare le cose, perché così suo padre è contento, cioè suo padre è contento a prescindere, sia che lui vuole fare il pianista, sia che vuole diventare uno chef, di un ristorante, sia che vuole fare l'imprenditore, sia che vuole continuare quello che faccio io, quello che vuole, cioè non è una cosa che voglio tarpar gli ali, certo mi piacerebbe magari un giorno diventare un grande sportivo, chi lo sa, non lo so, vedremo, però l'importante è che sia lui a capire dove vuole arrivare, chi vuole diventare, è ovvio che il mio compito deve essere quello di indirizzarlo, verso quella che penso guardandolo, possa essere la strada migliore per lui, ma poi sarà lui a perseguirla, sarà lui a intraprenderla e vedremo, perché sai quando sei tanto piccolo non è che dici, no io voglio fare questo, no è una cosa, cioè i genitori servono anche a quello, però questo è un altro insegnamento ad esempio. Molto interessante, invece una cosa che ci tenevo a raccontarti, e poi ho una domanda che si collega, io ho visto un tuo video tantissimi anni fa, che non mi ricordo, dove parlavi della vendita, e io sono sempre stato una persona, eh ti piace la vendita, ti piace la vendita, dove parlavi della vendita, uno dei tanti, però questo video mi aveva colpito veramente molto, perché innanzitutto ero uno dei primi che guardavo, e io mi ricordo che fin da piccolo non ascoltavo tanto le persone in generale, dai genitori alla scuola, qualunque situazione, avevo sempre un'idea che per principio partiva da essere il contrario di quello che mi veniva detto, non ero uno che diciamo ascoltava troppo, eppure quando ho guardato quel video ho ascoltato esattamente tutto quello che raccontavi sul discorso vendita, dove dicevi che era la skills migliore da avere, poi spiegavi tutte le varie motivazioni del perché, dove ti può servire non solo a livello di business, eccetera eccetera, e lì mi ricordo l'impatto che ha avuto su di me, perché io ho deciso lì di dire, ora imparo cosa vuol dire vendere in maniera intelligente, imparo a studiarmi bene la vendita, perché io ho subito una bella vendita durante quel video, e ti chiedo, visto che su di me hai impattato così tanto, credo possa essere di aiuto a tantissime persone, ritieni ancora che sia la skills numero uno, la cosa più importante, e in generale anche il perché? Sì, Allora la prima risposta è assolutamente sì, nel senso oggi qualsiasi cosa, ecco questa è un'altra cosa che devo insegnare a mio figlio, ma sin da piccolo, sin da subito, ha delle basi, peraltro è uno dei migliori venditori che io conosco ad oggi, perché è in grado di vendermi qualsiasi cosa senza neanche... ha imparato da te, quindi, e lì ti rendi conto, e dici vedi che anche non parlando è un grande venditore, sì, è la skill migliore del mondo, qualsiasi cosa tu voglia fare nella vita devi saper vendere, qualsiasi, qualsiasi, cioè, che non ha a che fare con, no, io faccio il venditore, porta a porta, io faccio il commerciale, no, sei un pizzaiolo, benissimo, devi saper vendere, sei un fotografo, benissimo, devi saper vendere, cioè, ti devi saper vendere al mondo, se vuoi guadagnare di più, o se vuoi anche solo avere più clienti, o se vuoi offrire un servizio migliore, o se vuoi farti pagare di più di quello che sta accanto, devi saper vendere, ma anche, cioè, pensa anche al rapporto uomo-donna, ok, cazzo, se non ti sai vendere, figlio mio, finirai per farti le seghe tutta la vita, nel senso, è quello il problema, capisci, cioè, bisogna sapersi vendere, e quindi, imparare le basi della vendita, che i nostri amici americani sanno fare, sin da quando sono piccolini, è sicuramente una cosa che, purtroppo in Italia, sono anni che io cerco ovviamente di, di cercare di far capire quanto questa skill sia importante, ma in Italia abbiamo purtroppo, quando uno pensa alla vendita, pensa a Bannamarchi, quando uno pensa alla vendita, pensa a Mastrota, quando uno pensa alla vendita, pensa al baffo, tra l'altro straordinario, straordinario i venditori, poi, purtroppo, non tutti, Mastrota, Bannamarchi, magari non ha livell'etica, ok, ma perché? Non è che la vendita è sbagliata, la vendita è un'arma, e l'arma tu la puoi utilizzare per salvare un bambino, o per uccidere una persona, ma non è colpa dell'arma, l'arma è cattiva, è la persona che utilizza quell'arma, che può essere cattiva, o può essere quella che ti ha salvato un'intera famiglia, no? Quindi, la vendita è assolutamente fondamentale, e, ripeto, tra l'altro, ti spoiler, ma stiamo creando il nuovo programma sulla vendita, perché ce n'è bisogno, perché la gente ci chiede costantemente, venditori, 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 tu pure, dove cazzo arrivano i venditori? Quindi, è un qualcosa in lavorazione, ora, qual è una delle cose, che quando bisogna iniziare a comprendere la vendita, o dominare l'arte della vendita, bisognerebbe imparare a prendere, è ascoltare, nel senso, visto che prima hai detto il discorso dell'ascoltare, l'ascolto attivo è una cosa fondamentale, perché alla fine, quella che è la mia interpretazione della vendita, che è quella che ad oggi funziona, che ci ha permesso di fare tanti milioni, direttamente e indirettamente, anche con i nostri clienti, cioè ad oggi i nostri clienti solo nell'ultimo anno hanno generato di indotto, penso, più di 100 milioni di euro, quindi, è importante, come numero, ma, se tu ci pensi, il discorso è, comprendere, cosa va detto, quando va detto, sulla base di quello che le persone ti stanno dicendo, quindi io ti ascolto, ma la mia idea della vendita, non è che ti devo ficcare giù il prodotto per la gola, costi quel che costi, la mia idea di vendita è, io ti faccio tutte le domande che ti servono, e che mi servono per capire, qual è la tua situazione attuale, qual è la tua situazione desiderata, quali sono i blocchi, gli ostacoli che hai in questo momento, cosa hai provato che però non ti ha portato da A a B, cosa ti sta causando a livello di problemi nella vita, di pain nella vita, cosa succederebbe nella tua vita e intorno a te, se questo obiettivo dovesse essere raggiunto, perché è così importante per te, perché è importante ora, e poi gli dico, oh, adesso ho tutte le informazioni che mi servono, cerchiamo di capire se quello che faccio potrebbe essere tante, e in questa maniera, io con la mia agenzia da anni, faccio questo processo, cioè non è mai cambiato, ma funziona benissimo, con un pack magari anche da decine di migliaia di euro, perché non è alla Jordan Belfort in maniera ossessionata, ma prendendo una parte giusta, diciamo di vendita che fa anche Jordan Belfort, e una parte invece molto, molto molto attenta di ascolto, e noto proprio che funziona veramente molto bene, anche perché il cliente si sente ascoltato, appunto compreso, capito, non è solo cerco di venderti ciò che io vorrei venderti, ma anche ciò che ti serve, che ti risolve un po'. Sì, 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 ti ho detto la vendita è una roba, cioè per me, io dico sempre, potrei perdere tutto, qualsiasi cosa, ma se so vendere, posso ricreare tutto da zero, e l'impatto anche che in questi anni abbiamo avuto su tanti venditori, su tante persone che poi hanno creato corsi di vendita, e via dicendo, è stato veramente elevato, e proprio l'altro giorno parlavo una ragazza, mi ha detto, cazzo io, questa è una top network di non so che azienda, e sostanzialmente mi fa, cazzo io, grazie a quel corso là, cioè quel corso là mi ha aiutato, che era la Super Selling X, e quel corso là sulla vendita mi ha completamente stravolto, cazzo è sicuramente uno dei meriti della mia posizione oggi in azienda, è grazie a quello che ho imparato in quel corso di vendita, e quindi tu ti rendi conto, ragazza che magari non conoscevo fino a qualche settimana prima, capito, e quindi lì ti rendi conto di quanto poi il network effetto, di quando fai le cose fatte bene, o di quando aiuti le persone, ma lo fai perché, perché quella skill che magari hai insegnato, cazzo effettivamente è la prima cosa che tu, cioè se io ti insegno, se tu ovviamente oggi sai vendere, ma se io domani prendo uno, lo insegno a vendere, la prima cosa che io posso insegnare a una persona, per fargli fare più soldi il giorno dopo, è saper vendere, perché poi io dico ok, prendo questo, se io e te andiamo in mezzo alla strada, ora questo qua, io te lo vendo al prezzo che tu mi dici che dobbiamo venderlo, 300 euro, 400 euro, lo vendiamo, poi i soldi glieli ridò perché non li vale, sta cacata, magari 600 euro, ok? Però se tu mi dici, dobbiamo cercare di vendere questa roba a 600 euro, cascasse il mondo, tu puoi scommettere quello che vuoi, io ti trovo la persona che compra 600 euro, questo. Poi ripeto, poi gli dico, ok fermo, era tutto un test, ritieni 600 euro, ok, non ha senso, però per dire, questo è l'esempio, cioè che quando tu sai vendere, è impossibile che tu non facci i soldi che vuoi fare, è impossibile. È vero, sono molto d'accordo, me ne sono proprio reso conto su me stesso. Ti faccio una domanda invece sul mondo che ora diciamo ti appartiene, ma da poco, da meno rispetto a quando sei partito, ovvero web3, cripto, questi argomenti qui. innanzitutto perché ti sei buttato in questo mondo? Perché non è una roba proprio molto normale quando l'hai fatto soprattutto. Perché poi anche ti sei messo a condividerlo tanto? Perché io per esempio ero completamente fuori da quel mondo, non mi interessava, poi ho iniziato a vedere un po' di contenuti tuoi, un po' di cose, ho iniziato a informarmi, ho iniziato a capire meglio, ho iniziato a capire anche quello che mi stavo per perdere, perché quello che può succedere è ovviamente molto di impatto, no? E quindi ti volevo chiedere come sei partito e perché soprattutto lo stai condividendo, perché lo stai facendo, perché è qualcosa che oltre a piacere ti ritieni che sia utile, ecco. Sì, allora innanzitutto è iniziato diciamo tutto in realtà molti anni fa, perché in realtà il mio primo bitcoin, i miei primi ethereum li ho comprati nel 2017 e ricordo come fosse ieri il giorno in cui li ho comprati, perché poi li ho comprati veramente al top di quel periodo là, di quella burran, la burran è il periodo insomma dove tutto sale, 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 ecco io l'ho comprato come un idiota al top, ma parliamo comunque di cifre non esorbitanti rispetto magari a quelle che poi abbiamo avuto gli anni successivi. Poi semplicemente non ho più badato a niente, quindi poi c'è stata la bolla tra virgolette scoppiata, semplicemente la bolla che scoppia è, lo dice chi non ci capisce un cazzo di queste robe, io all'epoca non ci capivo un cazzo, quindi avevo comprato perché pensavo che salisse, 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 in realtà poi lì eravamo arrivati al blow of top, quindi eravamo arrivati al top e stavamo semplicemente poi iniziando la correzione, il famoso bear market che poi è durato e dura generalmente un anno e mezzo, ciclicamente un anno e mezzo, da lì si inizia piano piano molto lentamente a partire fino all'alvin di bitcoin e da lì poi sale tutto quanto. Oggi so queste cose, all'epoca non le sapevo. Quindi diciamo 2017 compro, dicembre 2017 compro, 2018, 2019 me ne disinteresso completamente e verso il 2000, fine 2019, dicembre 2019, piano piano si risente nei media a parlare di cripto, cosa che per due anni non si era sentito, sempre così, anche adesso. Non ne stanno parlando, aspetta un attimo, aspetta che arriviamo di nuovo a 50.000 dollari con bitcoin e vedrai che tutti ne iniziano a parlare di nuovo, ok? E' sempre così, è ciclico. Quindi viene avesse la pulce nell'orecchio, e io ho detto, cazzo ma io avevo comprato dei bitcoin, certo poi avevo venduto in perdita addirittura, però poi ho detto, vabbè tanto sta roba è una cagata e via. E morale della favola, guardo e dico, cazzo ma io ce l'avevo, avevo comprato un po' di bitcoin e non mi ricordavo in quale exchange, e vabbè morale della favola, guardo e cazzo era salito. E dico, minchia, cioè mi ero tipo ritrovato 20.000 dollari immagino. Minchia. Cazzo, io qua ci devo, cioè qua mi ci devo chiudere un attimo, capire sta roba qua. Perché sono passati già due anni e mezzo, pensavamo tutti che fosse morto, adesso in realtà si sta riprendendo. Porca puttana, capito? E quindi da là ho iniziato proprio a mettermi ci pesantemente, però non così tanto pesantemente sin da subito. infatti poi c'è stato il crash dei mercati finanziari quando c'è stato l'annuncio, insomma, della pandemia a marzo del 2020, dove bitcoin tra l'altro è arrivato a 3.000 dollari. Io l'avevo molta liquidità e parliamo di più di mezzo milione di liquidità, avevamo appena fatto, e lì io ero tentato, ho detto, cazzo qua, io lo so che devo comprare tutto, a 3.000, devo metterci mezzo milione, oggi puoi fare il calcolo di quanto sarebbero diventati. però lì ho comprato poco, però qualcosina ho comprato, ma non tanto quanto, però poi nel tempo ho continuato a studiare, a studiare, e poi mi sono in realtà appassionato per davvero nel mondo cripto grazie agli NFT, quindi grazie a non fungible token. E perché? Perché dal mio punto di vista sono una tecnologia che non si può sottovalutare, è una tecnologia che la maggior parte dei guru esperti, anche nel mio settore, che fanno tanto i super esperti, stanno sottovalutando, dicono che sia una cazzata, e va benissimo, è giusto che lo dicano, ma quello che succederà a breve, nel giro di massimo tre anni, è che tutte queste persone che oggi, ancora oggi, continuano a prendere per il culo la blockchain, gli NFT e via dicendo, si ritroveranno ad utilizzare all'interno dei loro software, all'interno dei software che usano per fare business, all'interno di tutto quello che loro fanno per fare il business che oggi fanno, con cui guadagnano, si ritroveranno ad utilizzare la blockchain, e gli NFT, senza neanche saperlo, questo è quello che succederà, 100%, inizierà, avremo i passaporti, tutto sarà, quando viaggeremo, utilizzeremo la blockchain con gli NFT, perché, pensa anche al casino che c'è stato quando c'è la pandemia, dovevi andare in giro con 750 documenti, e tutto può essere messo sulla blockchain, su un NFT che è tuo, ok, quindi tanti sviluppi, ma la vera, la vera mass adoption, perché adesso siamo ancora in una fase di, dove la gente è ancora molto scettica, ok, c'è l'ordine adopter, adesso c'è la fase in cui la gente comunque continua a essere scettica, una cazzata di qua e di là, ma quest'anno, tra quest'anno e il 2026, tra quest'anno e il 2025, perdonami, i videogame prenderanno il sopravvento, con gli NFT e la blockchain, perché nel momento in cui tu puoi giocare a Fortnite, ipotizziamo, non sarà Fortnite, ci sono altre aziende, tu puoi giocare a Fortnite, e invece che spendere soldi come la gente già sta spendendo, che quello che questi fenomeni che parlano male degli NFT non comprendono, è che sono dei boomer del cazzo, ok, sono dei boomer, cioè bisogna dirlo, quindi sono dei boomer e non accettano che le cose siano diverse, che il mondo sia cambiato, e tutto quello che è diverso da quello che loro dicono è fuffa, ok, va bene, sei un boomer del cazzo, benissimo, ma ci sono giovani ragazzi, ma anche non ragazzi, che guadagnano tanti soldi giocando ai videogiochi, e oggi quando tu, c'è il mondo dell'e-sport, dell'e-game, ok, quindi ormai è diventato, cioè ci fanno anche proprio il tornei, e via dicendo, tutta la parte e-sport e via dicendo, e degli e-gamers, quello che succede è che tu oggi ci sono già persone, e gamer, che spendono soldi per prendere la mitraglietta di Fortnite, per prendere l'armatura, per prendere quello, quello, ma non le possono rivendere queste robe, le spendono e basta, non sono loro, la blockchain darà la possibilità, e sta già dando la possibilità con alcuni giochi, che non hanno ancora la massa adoption, di Fortnite, di possedere l'oggetto che tu hai, e decidere di rivenderlo e guadagnarci, capito, è uscito anche un articolo, non si sa se sia vero o meno, GTA 6, dovrebbe essere addirittura che, quello, i soldi che tu guadagni dentro GTA 6, sono cripto che potrai scambiare in dollari, ma è inevitabile, quello che c'è, le persone che non comprendono, che la blockchain e gli NFT, sono assolutamente inevitabili, per la massa, per la massa di popolazione che abbiamo oggi, per fare tutta una serie di cose, che non è l'immaginetta, il bordè, perché io stesso ho, quello, ok, ok, è un token, lo vedi, è un'immagine, c'è un token dietro, a posto, tu entri in un club, e poi ci sono tutte delle utilità, perfetto, ma quello che la gente deve capire, al di là della parte speculativa, che oggi è ancora alleviatissima, è la tecnologia, non mi puoi dire, non servirà un cazzo, gli NFT non servono, no, c'è, perché è l'unico modo che tu hai, per riuscire in qualche modo, a donare la proprietà vera e propria, di determinati asset, che nessuno può cambiare, e tante cose cambieranno, l'acquisto delle case, verrà fatto sullo blockchain, già adesso a Dubai, stanno facendo tante cose, in merito a questo, quindi, questo è quello che a me piace, il motivo anche per dirgli in un'ama, noi abbiamo messo già la possibilità, che se tu hai una collezione di NFT, e poi sia far pagare il corso, oppure puoi dare accesso, al corso alle persone con l'NFT stesso, quindi, quello è il mondo in cui andremo, quindi bisogna dal mio punto di vista, avere un minimo d'occhio di riguardo là, e quindi, io sento la responsabilità, di parlare in qualche modo, perché le persone mi chiedevano, cosa ne pensi, cosa non ne pensi, io ho parecchi soldi investiti, a mercato, quindi io a differenza, magari di tante persone, ho anche questi youtuber, influencer, del mondo cripto, NFT, che magari hanno due noccioline, a mercato, io ho parecchi soldi, dentro il mondo, del web trade, del web trade, dell'ecrypto, e degli NFT, e quindi giustamente, ho la responsabilità, di dover stare aggiornato ogni giorno, motivo per il quale, su Twitter, cioè, ho il mio alter ego, su Twitter, che è in inglese, in quel mondo, ed ho, dei follower, che sono completamente diversi, da quello che è il mondo, Instagram, YouTube, Facebook, e vi dicendo, però devo, perché avendo tanti soldi, in ballo, devo essere aggiornato, devo sapere dove va il mercato, devo sapere cosa succede, devo sapere quando comprare, devo sapere tutta questa serie di cose, e poi in realtà, tutto questo, mi è anche servito poi, in quello che faccio poi da anni, nel business generale, perché ti apre la mente, e inizio a vedere cose diverse, piuttosto che vedere solo quella roba là, che è il problema, della maggior parte dei formatori, che è vero che tu devi essere, focalizzato è, ma alla fine a un certo punto, se ci fai caso, vedi solo quella roba là, cioè, capito, io oggi, avendo anche, ad esempio il software, gestendo il software, cioè, per me è una, capito, cioè, sì, ok, so vendere corsi, so vendere formazione, te lo so insegnare, puoi fare milioni di euro, benissimo, però oggi ho anche, la competenza di NFT, dei crypto, che non te la vendo, che non mi interessa, la condivido gratuitamente, sui social, come però, ho anche, il, l'esperienza, che mi sta dando, ad esempio, creare, costruire, scalare, una software company, che non è vendere i corsi, è totalmente diverso, e quindi, questo ti dà, ovviamente, una visione, a 360 gradi, che un imprenditore, dovrebbe avere. vero, me ne sono accorto, penso che, da poco, ho, messo in pausa, chiuso, diciamo così, la mia tenda di formazione, proprio perché avevo la visione, anche sulla mia agency, vedevo ciò che funzionava bene, vedevo ciò che, mi stava portando risultati, molto migliori, con anche meno sforzo, o con anche più piacere, nello sforzo che stavo facendo, e proprio per avere una visione, che comunque, non sarà, enorme come la tua, però comunque, già vedendo due cose diverse, e mi sono reso conto che ho detto, aspetta, qual quadra non cosa, e quindi, ho deciso di mettere il fuoco su, una cosa unica, in quel momento, guarda, ti faccio l'ultima domanda al volo, e poi dobbia scappare in tre, domanda che faccio a tutti, che ho copiato di un'università, pensa, la domanda è la seguente, con quale persona, viva o morta, andresti a cena? A fare una chiacchierata, sarebbe diciamo, il concetto della domanda. Figa, questa è una bella domanda, è perché non saprei veramente, ce ne ho tanti, penso che vorrei andare con, cazzo, uno, viva o morta, viva o morta, puoi scegliere chi vuoi, ogni volta cambia idea, ogni volta ne faccia. Io vorrei andare con, con Napoleon Hill, sì, a cena con Napoleon Hill, colui che ha scritto, insomma, Think and Grow Rich, quindi, pensi e arricchisci te stesso, che è il libro su cui, qualsiasi tipo di formatore, ramo crescita personale, ok, si è formato, cioè lo stesso Jim Rohn esce da lui, Anthony Robbins esce da lui, quindi Napoleon Hill, morto ormai da tantissimi anni, quindi direi Elon Musk, so che ci posso riuscire ad andare a cena con Elon Musk, è questa cosa, ma poi sì, anche magari, sai, certo, ovviamente, cioè, se tutto è possibile, fino a che siamo tutti vivi, tutto è possibile, quindi, per quello sono andato, sono persona morta, che è effettivamente una roba impossibile ad oggi. Grazie, grazie per, figurati, informazioni, il tempo che ci hai dato, e per la bellissima chiacchierata, grazie ovviamente, per aver visto questo podcast, vi invito a iscrivervi al canale YouTube, a seguire poi Mick, su tutti i vari social, e a guardare le prossime puntate.